buongiorno a tutti allora 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 ieri o meglio l'altro ieri quello che è vi ho parlato del grandissimo marione brega vi ho fatto proprio una bellissima recensione spero che vi sia piaciuta quei pochi che l'hanno vista e oggi parleremo di lui il mio idolo per assoluto un comico presentatore persona garbata che insieme alla moglie hanno fatto un sodalizio che è il più amato dagli italiani cioè baspensare terensile amatissimi ma anche loro due sono amatissimi purtroppo ci hanno lasciato entrambi ormai da tanti tanti anni ma è lui o non è lui è lui o non è lui certo che è lui raimondone vianello andiamo a leggere ringraziamo cinema penso sia di cinematogra.it non l'ho segnato però credo che sia loro questo bellissimo ricordo diciamo così del grande raimondo raimondo vianello è considerato a tutti gli effetti uno dei padri fondatori della televisione italiana riconosciuto come un'icona del buon presentatore ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco a 60 anni passando dalla rai a fin in best si è fatto amare per la sua verve la classe l'eleganza la pacatezza e poi quella comicità raffinata e tipicamente inglese scandita da tempi comici pazzeschi sapeva far ridere dicendo cose normalissime accompagnate dallo sguardo più simpatico del mondo era una persona grata si ricordava ogni gesto dal più piccolo al più grande lo hanno raccontato in tv di recente a oggi un altro giorno ospiti di serena bortoni l'estata di casa vianello giorgia trasselli che faceva parte appunto della tata di casa vianello il regista pier filippo siena e barbara snellenburg che interpretava la vicina kate proprio quest'ultima ha fatto presente come raimondo si premurasse di ringraziarla per una semplice cartolina di vacanza che gli aveva inviato tempo addietro anche dopo averlo rivisto a distanza di settimane georgia non è riuscita a trattenere le lacrime dando l'impressione di avere dentro di sé tanto di vissuto messo tra virgolette in quel set da raccontare ma le frasi si strozzano in gola come se fosse una ferita ancora troppo recente quella della loro scomparsa raimondo vianello dava del lei sandra mondaini dava del tu raimondo con sandra ha formato la coppia per antonomasia erano archetipici dei modelli maschi maschili e femminili lui italiano elegante ma un po provolone lei la moglie un po annoiata che barba che noia che noia che barba raimondo usciva poco di casa è stato descritto come un uomo distinto che dava del lei a tutti sandra era più confidenziale dava del tu ed era come una bambina si presentava in tuta ma con il tacco raimondo aveva sempre tutto il copione in testa arrivava sul set con i fogli sotto il braccio mentre sandra era giocherlerona e non ricordava nulla così il marito la invitava a sedersi e le spiegava tutto con calma sapevano mettere tutti a loro agio non c'è la differenza tra il regista e la donna delle pulizie sandra si ammalò di tumore ai polmoni che battezzò philip morris fumava moltissimo e ramondo glielo diceva ma stai già rifumando quando la riprendeva sul set dopo poco si premurava di come stesse era una persona di classe la mondaini si curò e superò la malattia ma vediamo come ha iniziato la carriera il grande raimondone vianello perché il grande raimondone vianello ha iniziato la carriera sullo scoccare degli anni 50 prima ad attore comico e sceneggiatore per poi passare alla conduzione di alcuni varietà piuttosto noti in railo si ricorda la conduzione di un due tre e tante scuse per le reti film di messa ha condotto attenti a quei due in seguito raimondo vianello ha condotto quiz televisivi come zigzag e programmi sportivi come pressing i sodalizi artistici con ugo toniazzi e la moglie sandra mondaini sono stati più significativi e di maggior successo con il primo girò diversi film negli anni 50 mentre lo ricordiamo impegnato con la moglie sandra negli anni dagli anni 60 in poi con la quale ha realizzato molti varietà film e la celebre sitcom casa vianello in onda dal 1988 al 2007 nata roma il 7 maggio del 1922 raimondo era il quarto figlio di guido i tre fratelli maggiori erano roberto lanfranco e giorgio il papà proveniva da una famiglia veneta con tradizioni marinare originaria di pellestrina e di virginia margherita maria dei marchesi accoretti di antica famiglia nobile maceratese l'attore era anche il cugino di alberto vianello poeta futurista veneto quest'ultimo era il papà di eduardo cantante eduardo vianello raimondo ha vissuto i primi cinque anni di vita a pola e poi a trieste durante la seconda guerra mondiale infine in dalmazia il papà era ammiraglio della regia marina e si trasferiva spesso per motivi di servizio dopo il liceo ginnasio torquato tasso a roma lo stesso di vittorio gasman che conobbe all'epoca si laureò con modesti voti in giurisprudenza senza esercitare mai la professione forense in seguito alla adesione della repubblica sociale italiana in qualità di sotto ufficiale dei bersaglieri venne detenuto dagli alleati nel campo di coltano insieme ad altri futuri personaggi dello spettacolo come enrico maria salerno e walter chiari il giornalista enrico ameri e il politico mirko tremaglia al termine della guerra vediamo cosa fece passato il periodo bellico raimondo si dedicò allo sport diresse il centro nazionale sportivo fiamma e fu anche atleta insieme al fratello roberto aveva una grande passione per lo sport in particolar modo per il calcio che praticava discretamente tanto da essere contattato dal palermo militante in serie b nel 1946 la squadra rosa nero offrì 30 mila lira al mese a vianello che però rifiutò sebbene tornò a giocare decenni dopo in terza categoria nella samo si tratta della squadra di cui nera diventato il presidente che riportava le iniziali della moglie sandra nel nome sandra mondaini samo ebbe grande successo alla rivista canta chiaro numero due di garinei e giovannini dopo il teatro di rivista passò a ruoli da caratterista al cinema insieme ad attori del calibro di totò franco e ciccio birna lisi e l'amico appunto ugo tognazzi si alternava con il teatro per cui lavorò con registi come mario mattoli renzo tarabusi marcello marchesi e oreste biancoli sul piccolo schermo lo ricordiamo con uno ugo tognazzi nel programma un due tre e fu un grande successo si trattava del primo format televisivo incentrato sulla satira che arrivava a toccare i presidenti della repubblica del consiglio la censura però portò alla chiusura del programma nel 1959 nell'occasione toniazzi e vianello irrisero un incidente alla scala occultato dai mezzi di stampa principali vale a dire la caduta del capo dello stato giovanni gronchi mentre cercava di compiere un gesto galante verso una signora gronchi finì a terra accanto al presidente della repubblica francese de gaulle il duo televisivo provò a replicare la scena trasformandola in gag e vennero cacciati dalla rai perché allora queste cose non si potevano fare adesso lasciamo perdere cioè il povero il quello che imita sempre che non mi ricordo mai come si chiama se lo faceva allora lo fucinavano dopo l'allontanamento dalla rai entrambi raccontarono la vicenda in altre trasmissioni toniazzi e vianello insieme erano perfetti da un lato vi era la commocentà popolaresca di ugo dall'altra quella raffinata inglese di vianello quest'ultimo conobbe la subrette sandra mondaini nel 1958 era figlia del pittore giacinto i futuri sposi lavorarono a teatro con sayonara butterfly parodia dell'opera di puccini dopo aver lavorato insieme al cinema ad una rivista raimondo e sandra si sposarono il 28 maggio del 1962 fu anche l'inizio di un sodalizio artistico durato oltre 50 anni raimondo vianello venne ancora allontanato da rai 2 quando propose una cosa sul papa in merito ad un numero spiegò l'accaduto nuovamente in altre trasmissioni alla presenza di mike boggiorno che lo incalzava a parlarne dopo aver partecipato in molte trasmissioni aver lavorato nel varietà con la moglie nel 1967 condusse il tappabuchi con sandra e corrado nei titoli di testa il nome di raimondo appariva sotto la voce di aiuto presentatore di corrado portò i batti becchi coniugali con sandra in io e lei trasmissione radiofonica nel 1969 condusse canzonissima con johnny dorelli alla presenza fissa delle gemelle kessler negli anni 70 si dedicò alla sceneggiatura di alcuni film prevalentemente di steno nello stesso periodo partecipò con la moglie ad alcuni varietà di grande successo come sai che ti dico punto di domanda insieme a iva zanicchi dopo aver preso parte ad alcune trasmissioni come tante scuse e di nuovo tante scuse con ospiti fissi ricchi e poveri i coniugi lasciarono il piccolo schermo per dedicarsi al varietà radiofonico il programma più di così rimpiazzò lo storico gran varietà era uno show con ospiti sketch e canzoni il tutto alla presenza del pubblico in sala dopo la prima stagione passarono al testimone enrico montesano nel 1977 vianella e mondaini tornarono in tv con noi tre puntini no noi no primo programma della coppia per la tv a colori a inizio anni 80 i coniugi presentarono con degli a scala una rosa per la vita dalla bussola di marina di pietra santa in bersiglia si trattava di una delle prime iniziative della tv destinata alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro dopo altre conduzioni alla rai la coppia passò a finibes nel 1982 con attenti a noi due raimondo ha presentato anche il celebre quiz zizzac nelle stagioni dal 83 all'86 dopo dieci anni dalla nascita della tv commerciale i cronigi vianello vennero chiamati a condurre il varietà buon compleanno canale 5 dal 1988 al 2007 fu la volta della celebre sitcom casa vianello la più duratura della tv italiana si contano ben 16 stagioni in totale con 338 episodi complessivi nel biennio 96 97 il set si spostò in campagna per una saga di cinque film per il piccolo schermo intitolata i misteri di cascino a vianello si trattava di un format in cui la coppia si cimentava di investigare in merito a delitti o furti mantenendo sempre il tratto umoristico dal 1991 al 1999 raimondo vianello condusse pressing trasmissione dedicata agli eventi sportivi nel 1994 dichiarò in questa trasmissione spinto da antonella elia che avrebbe votato per il proprio editor date le imminente elezioni e l'ingresso in politica del presidente silvio berlusconi divenuto ormai un punto di riferimento delle trasmissioni televisive e un'icona del buon presentatore venne richiamato dalla rai per condurre il festival di san remo nel 1998 insieme a eva erzigova e veronica pivetti conduzione che però generò critiche controverse da un lato si apprezzava la personalità e la tipica verba ironica accompagnata dalla plomba e dall'eleganza che contraddistinguevano raimondo dall'altra la conduzione veniva ritenuta piuttosto scollata dal contesto del festival tuttavia in quell'anno venne celebrato con corrado mantoni e mike buongiorno quale pioniere della tv italiana nella serata i tre tenori con maurizio costanzo ed enrico mentana alla conduzione dagli inizi degli anni 2000 sino ad oltre metà degli stessi prese parte come ospite opinionista pressing champions league in onda con appuntamenti infrasettimanali trasmissione condotta da massimo de luca nel 2004 la copia più amata della tv ha fatto l'ultimo lavoro per il piccolo schermo con sandra raimondo super show in cui gli artisti ripercorrevano la loro carriera l'ultimo lavoro al cinema fu per il film crociera vianello tuttavia con il suo solito modo ironico di dire le cose raimondo vianello affermò di proporse come ospite un po dormiente di trasmissioni sportive nel 2008 venne consegnato alla copia il premio alla creatività della società italiana degli autori ed editori come segno di riconoscimento alla carriera avvenne durante la serata finale del festival di sanremo con pippo baudo alla conduzione raimondo vianello si spense il 15 aprile del 2010 a 87 anni il mitico vianello ci ha lasciati all'ospedale san raffaele di milano dopo 11 giorni di blocco renale l'attore viveva con un solo rene dal 1972 sandra murandaini morì cinque mesi dopo dopo la morte dell'attore furono molti gli omaggi dal mondo sportivo che riportava alla memoria la passione calcistica di raimondo in tal senso si fosse in particolar modo l'inter squadra per cui vianello teneva l'omaggiavano particolarmente anche le squadre del lancone del venezia le città originarie dei genitori dell'artista la camera ardente venne allestita negli studi di colonio monzese studio 4 di media se gli stessi furono il set di casa vianello i funerali si celebrarono il 17 aprile del 2010 presso la chiesa di dio padre a milano 2 presenti in moltissimi volti noti della tv e anche il presidente del consiglio silvio berlusconi raimondo venne sepolto nella tomba di famiglia al cerintero del verano di roma il 2 novembre del 2010 dopo la morte anche di sandra i nomi dei coniugi più morti apprezzati della tv italiana venne riscritti al famedio venne intitolato a raimondo lo stadio del paese di offagna provincia di ancona il 7 maggio di quest'anno il comune di venezia intitolato a raimondo una calle della frazione di portosecco dell'isola di pellestrina località natale del padre john mark e raimond adottati da sandra e raimondo figli dei domestici filippini edgar e rosalie magsino hanno ereditato la fortuna della celebre coppia della tv compresa la loro casa dove ancora oggi vivono i due hanno rivelato di avvertire presenze in casa ne hanno parlato pubblicamente qualche anno fa john mark uno dei nipoti di raimondo e sandra ha raccontato che una ragazza che le stava facendo un massaggio messo tra virgolette gli aveva riferito di aver intravisto due presenze sempre messo tra virgolette all'ingresso della porta della camera una molto alta e calva e l'altra raffigurava una donna con i capelli biondi a caschetto la mitica casa di sandra e raimondo si trova a segrate un appartamento situato appena fuori milano oggi vivono lì i figli dei magsino i domestici della celebre coppia della tv l'ingendo e patrimonio di vianello e della mondaini è stato ereditato da edgar e rosalie che sarebbero i genitori bene ragazzoli scusate la lacrimuccia ma raimondo per me è troppo un mito perché comunque ha sempre vissuto da giovane è che mi ricordavo che era venuto mancare a 88 anni e non 87 però purtroppo 2010 1922 non aveva ancora compiuto gli 88 era 87 e qualche cosa perché è nato il 7 maggio ed è morto il 15 aprile quindi doveva ancora compiere per 22 giorni non aveva ancora compiuto 88 anni però teoricamente quando hai più di sei mesi fai non so fai dieci anni e sei mesi e un giorno sei già entrato nell'undicesimo anno ecco per intenderci ci mancherebbe che uno muore a dieci anni purtroppo succede ma si spera rarissimissimissimamente ragazzoli spero che il racconto del buon raimondone ma in maniera molto veloce molto vi potrei rammentare quando andarono a conoscere silvio berlusconi che gli aveva invitati per era in mondo quando vide dove dove si incontrarono eccetera pensò ma questo cosa vuole offrirci noi siamo siamo abituati alla rai fa poi ho visto l'assegno anzi il contratto l'assegno che mi voleva dare per il primo anno e ho accettato subito ma bene ragazzoli io spero ripeto spero che ogni tanto succedono è perché ne ho parecchie nei nelle mie call news di racconti su attori personaggi dello spettacolo personaggi storici c'è di tutto e di più lo sapete quindi ogni tanto mi capitano anche queste belle chiamiamole così sinossi sinossi se è giusto sinossi un po più piccolo no non la trama la trama della vita dell'attore magari è un po più lunga la sinossi è un po più corta se non sbaglio aspettate che controllo di non aver detto una castroneria e poi vi saluto sinossi esposizione sintetica schienatica di una compendio quindi è una sinossi non è una è un po più corta perché se dovessimo parlare di filmografia di ramondo vianello di tutto quello che ha fatto eccetera faccio un video di un ora ma forse non mi basta manco quattro cinque ore ci vuole l'enciclopedia oppure tutto il testo del diritto privato che si studiava all'università che erano ai miei tempi quindi parlo del 1990 più o meno perché l'università l'ho iniziata nell'88 e praticamente non ho niente però avevo già preso il libro di privato eccetera erano 1088 o 1100 pagine ecco penso che per fare tutta la il racconto di ramondo vianello ci vogliono forse forse non bastano perché ce n'è aneddoti non aneddoti racconti dagli anni 50 fino al 2010 60 anni di carriera figuratevi buonanotte comunque ragasoli anche lui a metà aprile come il grande totò se non sbaglio anche il grande totò verso metà aprile venne a mancare però del 67 va bene sorvogliamo sorvogliamo purtroppo è un traguardo che speriamo sia il più lontano possibile ma che purtroppo tocca a tutti e speriamo che ci sia qualcosa di bello che ci aspetta dopo o almeno di poter rivedere le nostre persone care chi lo sa magari rinasciamo subito e muori rinasci muori rinasci muori rinasci e in base a quello che hai fatto nella vita precedente avrai una vita futura magari da libidine oppure brutta 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 perché devi pagare quello che hai fatto prima chi lo sa il futuro l'ipotesi e il dopo morte anche anche se ci provano a scoprire che cosa ci aspetta nasci solo e muori solo diceva quello la meno che non sei sull'aereo che precipita allora muori con altre 200 persone 300 persone eccetera eccetera speriamo toccatina o come diceva il buon pierino non voglio salire sull'aereo non voglio salire sull'aereo c'è paura fa ma guarda che se è destino non puoi farci niente anche se non sali sull'aereo fa ho capito ma se è il destino del pilota io colpa ne ho vabbè lasciamo perdere era per sdramatizzare un attimo visto che purtroppo poi ho dovuto parlare di ad e ci vediamo alla prossima adesso vado a prepararmi per fare don gigi e don cherubino perché ci vuole ci vuole ciao